I just want it Non aggiungo altro spiega. È dunque Super Simo la narratrice onnisciente delle vicende amorose, e si spera, anche di qualche paio di corna, in fondo siamo qui per questo, di coppie di personaggi noti pronti a mettere alla prova il proprio rapporto sull'isola delle tentazioni. Temptation Island, il cast per quel che riguarda i nomi dei protagonisti di questa prima stagione vi pregna ancora il mistero. Si erano fatti i nomi di I, Cecilia, R, O, D, R, I, G, U, E, Z e Ignazio Mose, che effettivamente sembrano spariti dal piccolo schermo e la cosa ci preoccupa, e di Francesco Monte e Paola Di Benedetto, ma in quest'ultimo caso la storia è durata meno di un gatto intangenziale, e non serve il re esorzardo a dividerli. Ci hanno già pensato loro a dirsi addio. Simone Ventura e il rapporto con Maria De Filippi Temptation Island V.I.P. rappresenta una nuova tappa nel rapporto professionale instauratosi tra l'avventura, e la fascino della De Filippi. Per la casa di produzione di Maria, infatti, Simona ha già condotto due edizioni V.I.P. Selfie, le cose cambiano, e al momento è membro della commissione esterna del Talent SHOW Amici. . . . . . .